Amici di Go-Kart TV Ben ritrovata, oggi un puntatone Ci aspetta una grande puntata piena di Portato qui alcuni dei tuoi drivers I più meritevoli Chi quest'anno ha ottenuto dei titoli internazionali e nazionali Io andrei subito Bene, bene, grazie Bene, la puntata può partire Come tu hai già anticipato, questi sono i primi due piloti presenti in questo primo blocco della nostra bellissima puntata Poi entrerà a invitare David De Lucchi, anche a chi non lo conosce da casa E dire il team driver dove è impegnato e da quanto tempo esiste Il team driver e Tony Kart Sono due Avete avuto una vittoria molto importante Giusto? A livello internazionale Ve ne vuoi parlare? Sì, abbiamo vinto con Simone Favaro Sentiremo David, supportato dal team driver, ha alzato Di riuscire a comprare Si può dire che questa è la tua gara più emozionante del 2016 O ne hai un'altra, non so, che ti ha emozionato Secondo me è stata la prima gara ad Adria Sì? Che ovviamente cambiando Un Alessandro Grandi che l'hai visto veramente cresce Un pilota comunque si affezioni anche al campionato internazionale Quindi abbiamo con noi Abbiamo già detto che hai vinto il titolo nazionale nella Champion Kart Mini, giusto? Sì Puoi raccontarci le emozioni, i successi di questo 2016? Sì, però Con il go-kart E io da quando avessi Lo so Esatto Ma sono già decisi Ma sono dei giovani grintosi con il piede pesante Io volevo infatti presentarvi un altro campione Nicolas Pugliatti, classe 2007 Bene Nicolas, tu hai vinto la finalissima internazionale Tanta correttezza È un insegnamento del team driver anche questo Per essere comunque amici e leali sia fuori che dentro C'è David Che rapporto avete visto che avete vinto tanta rivalità o comunque è successo durante l'anno che si siano toccati? No, mai Sempre molto corretti Sono passato 17 di Nicolas e Leonardo Allora Leonardo passarà di categoria Sì Farà la Junior perché ha già 12 anni Farà la Junior X30 E poi qualche tappa della Rock Bene Duro Duro Siete pronti? Carichi? Sempre? Pensate alle festività nataliste Tra un po' Poi parte di un team serio che ti forma Mangiate C'è un'altra Detta all'Hospitality Grazie noi vi dobbiamo Vederci ancora qui no? Certo Con grandi vittorie mi raccomando Voi ha un po' di altri piloti che quest'anno hanno siglato dell'Inpriver Rimanete con noi Con Gabriele Mini tu hai vinto il campionato italiano Già anticipato da David e da te È il primo anno che fate la Rock Quindi entrare in un monomarca così difficile E subito imporsi in questa finale Ci la Fanno sapere i programmi del 2017 di Simone? Beh il prossimo anno noi abbiamo in mente di fare la X30 con la Iame Fare tutto il campionato italiano Poi il mondiale alle Mans E poi anche la Rock Se riusciamo a fare anche il mondiale E l'italiano come quest'anno Beh quindi sicuramente il mondo rock avrà ancora Ringrazio tutti i meccanici E ringrazio anche il motorista che ci ha dato una mano KGT Stefano Tredicine Per i motori che ci ha fatto vincere il mondiale Abbiamo parlato di tanti programmi per il 2017 dei piloti Ma Alice adesso è ora di chiederli Abbiamo subito dei vari test sul VSK con i mini kart Perché quest'anno vogliamo fare sia il VSK che l'italiano con la mini E poi a correre col team Rispondere Sionano e mi dispiace chiudere Beh dobbiamo chiudere tra poco partirà Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti